Oggi 25 gennaio 2023 sono tre anni da questa foto probabilmente il momento più alto del rapporto tra la tifoseria giallorossa e Nicolò Zagnolo pochi giorni prima infatti era arrivato l'infortunio al crociato all'Olimpico contro la Juve lì a breve ci sarebbe stato il derby capitolino e tutti i tifosi si erano schierati a sua difesa per rispondere diciamo agli sbeffeggiamenti dei tifosi avversari ma in generale per mostrare vicinanza a un giocatore che in poco tempo era entrato veramente nel cuore della maggior parte dei tifosi della Roma pensare che adesso tutti quanti comunque siamo in attesa di una sua cessione sperando anche che questa venga il più in fretta possibile è abbastanza triste io so bene che non bisogna affezionarsi ai giocatori perché comunque vengono nella tua squadra per un periodo limitato un giocatore di base ha 15-16 anni di carriera ad alti livelli da poter gestire poi c'è chi cala prima c'è chi cala dopo più o meno siamo lì se uno inizia a 20 anni sui 36-37 comincia comunque a calare sensibilmente salvo eccezioni e quindi è chiaro che un giocatore magari deve valutare bene se conviene stare in una squadra per tanti anni oppure se provare destinazioni diverse perché poi più passa il tempo è più difficile appunto che ci saranno opportunità di questo tipo non è però questo il caso bisogna sottolinearlo perché non è che Zaniolo sta andando in una squadra che gli sta proponendo un'offerta irrinunciabile per lui e per la stessa Roma Zaniolo se ne vuole andare senza che effettivamente sia arrivata un'offerta concreta e di livello per il suo cartellino quindi è qua diciamo il punto di rottura tra il giocatore e la tifoseria perché non è una cosa che mi viene da pensare farei anch'io un conto è volersene andare un conto è volerlo fare in fretta e furia nel bel mezzo della stagione voler andare a tutti i costi da un'altra parte in questo caso addirittura in una squadra che si gioca allo stesso obiettivo della Roma questo è stato proprio il momento in cui i tifosi hanno chiuso i rapporti con lui poi è chiaro c'è sicuramente chi continuerà a stimarlo ed apprezzarlo non sto generalizzando tutti quanti perché mi è arrivato anche un commento che mi ha scritto eh tu giudichi tutti i tifosi ci sono anche quelli che lo hanno ma non ci mancherebbe altro cioè io non è che prendo milioni di persone e dico tutti la pensano uguale però è chiaro che il rapporto tra il giocatore e la tifoseria in generale si sia rovinato non penso di dire una esagerazione e come ho detto anche nel video precedente dedicato sempre a Zagnolo un po' se l'è anche cercata proprio per questi atteggiamenti ma soprattutto per questa scelta che ha colto tutti spiazzati io penso sempre poi arriveremo chiaramente all'analisi della sua possibile partenza al Milan dell'offerta e contro risposta della Roma che la rabbia di una persona di fronte a determinati comportamenti è sempre sinonimo di volerci tenere tanto cioè se la Roma e i tifosi non fossero così affezionati al Nicolò Zagnolo non ci rimarrebbero male di fronte a queste notizie di fronte a questo genere di cose uno va avanti e dice vabbè ci può stare preferisce altre strade e tutto quanto se ci rimane così tanto male è perché effettivamente la speranza di concludere meglio questa carriera c'era o comunque questa sua esperienza nella capitale e quindi io credo che più la rabbia dei tifosi c'è e più vuol dire appunto che tutti quanti me compreso ci tenevano tanto fatta questa lunghissima premessa parliamo dell'offerta del Milan perché i giorni passano ci avviciniamo sempre di più al 31 gennaio e quindi è sempre più difficile riuscire a trovare un modo per accontentare la Roma e il giocatore ma soprattutto il club perché a quanto sembra Zagnolo è fermamente convinto di accettare la proposta rosso nera accendo un po' le luci così almeno fa un pochino ambiente partiamo dal principio sembra che inizialmente il Milan abbia offerto alla Roma la bellezza ironicamente parlando di 15 milioni che non sono neanche sicuri perché è tutto quanto legato alla possibile qualificazione in Champions del Milan cosa che in questo momento non è certamente impossibile per carità ma non è neanche così tanto sicura rispetto a prima perché se a inizio 2023 comunque i rossoneri avevano un bel distacco tra terzo, quarto e quinto posto adesso siamo praticamente tutte lì nel giro di cinque punti anzi nel giro di tre punti ci sono cinque squadre e quindi può succedere di tutto da una parte e dall'altra quindi non è neanche una certezza non è che me lo viene a dire il Napoli che se vanno in Champions si prendono Zagnolo con l'obbligo di riscatto lì è un po' come dire lo prendiamo perché difficilmente il Napoli ora come ora può andare sotto il quarto posto mi sembra una cosa un po' poco fattibile poi possono anche toccarsi quello che volete voi però mi sembra un po' complicato ecco detto ciò questa è stata la prima offerta poi c'è stato l'inserimento come se questo migliorasse le cose di Junior Messias allora io non voglio farlo passare come il giocatore più scarso dell'universo però se devo cedere Zagnolo per prendere Messias non ci vedo tanto miglioramento dal punto di vista delle qualità poi andiamo a vedere le statistiche Messias quest'anno ha fatto anche meglio credo che abbia fatto 4-5 gol e 2 assist più o meno mentre Zagnolo ha fatto 2 gol e 3 assist più o meno quindi siamo lì però è chiaro che come potenziale adesso non mi ricordo l'età di Messias ma Zagnolo può fare molto molto meglio quindi non credo che un inserimento del cartellino di Messias nella trattativa riesca a convincere la Roma a farla anche perché comunque c'è ancora viva questa pista Zies e con tutto il rispetto ma magari arrivasse il marocchino alla fine del calcio mercato quindi questa opzione è stata scartata nelle ultime ore invece sembra che l'offerta del Milan si sia alzata non più 15 ma 25 milioni sempre però collegati a questa benedetta qualificazione alla prossima Champions League considerando che questo è un obiettivo in comune tra le due squadre io capisco perché la Roma non abbia accettato mi sembra una cosa normale perché si dice appunto che la Roma abbia detto no perché questo non solo perché appunto ci giochiamo lo stesso obiettivo e quindi rischeremmo di arrivare a un punto in cui capire se andare in Champions e prendere i soldi della Champions oppure se non andarci e prenderci i soldi di Zagnolo che il Milan ci darebbe per acquistarlo definitivamente so bene che è mille volte meglio il quarto posto però quando c'è appunto una qualificazione in ballo tra due squadre è sempre meglio magari non regalargli i giocatori e non permettergli di usare queste formule capisco bene la volontà del mercato del Milan ci mancherebbe non è che uno deve partire dicendo vuoi 35 milioni ti do 35 milioni uno parte un po' al ribasso approfitta del fatto che ci stiamo avvicinando alla fine del mercato e spera che la squadra che detiene il cartellino faccia uno sconto è il gioco delle parti non sto accusando nessuno ci mancherebbe però al tempo stesso capisco che la Roma non voglio accettare in questo momento io mi auguro che si arrivi a una conclusione che permetta alla Roma di prendere il sostituto se devo scegliere preferisco guadagnarci qualcosa in meno ma chiudere questa situazione perché ormai il rapporto tra giocatore e piazza è difficilmente sanabile ma anche tra giocatore e allenatore perché già solo che tu per un mese non ti fai convocare perché te ne vuoi andare è veramente grave non un mese ma siamo lì e non parliamo di un problema personale del giocatore come la depressione per il povero Ilicic qua parliamo di una scelta del giocatore che magari per carità avrà il suo stato emotivo particolare per l'amor di Dio però capite anche che un conto è dire questo è un conto è dire me ne voglio andare cioè se Zagnolo avesse detto io mentalmente non mi sento bene se mi puoi non convocare uno lo accetta va bene lo stipende e tutto però non credo che i tifosi si sarebbero arrabbiati se effettivamente Zagnolo fosse stato messo in tribuna o comunque non convocato perché mentalmente si sente depresso quello che è che gli vuoi dire? succede chiaro non è che deve durare per sempre però è giusto appunto guardare un po' anche il benessere mentale del giocatore però se lui effettivamente ha detto non mi sento bene voglio andarmene via è chiaro che se non ci sono offerte concrete diventa un problema questa è la sintesi del discorso io mi auguro che la Roma non scenda sotto i 25 perché sarebbe veramente troppo regalato indipendentemente dal rendimento di quest'anno del contratto in scadenza nel 2024 eccetera eccetera mi auguro che si arrivi a una soluzione che convinca tutti poi ne parleremo poi vedremo un po' come lo useranno eccetera eccetera però la Roma ha bisogno di chiudere questa situazione in alcuni casi si poteva anche dare la colpa alla dirigenza per esempio sul caso Mkhitaryan è vero che lui non ha accettato però forse siamo stati troppo tranquilli di tenerlo un po' quello che sta succedendo con Smalling anche se io ormai per via appunto dei precedenti sono ben conscio del fatto che l'inglese potrebbe partire potrebbe andare all'Inter visto che lì ci mandiamo praticamente tutti una volta che termina il contratto comunque una volta che raggiungono i 30 anni ecco dai 30 anni in poi ogni giocatore della Roma può andare all'Inter questo mettetevelo ben in chiaro quindi lo sapete e non vi lamentate se poi succederà di nuovo in futuro ma a parte gli scherzi vedremo un po' appunto quello che succederà io credo che si troverà una soluzione perché è vero che la Roma deve difendere i suoi interessi però è anche vero che sappiamo bene che la cosa migliore è cederlo e prendere Ziash al suo posto cosa che io mi auguro fortemente non solo perché sono innamorato calcisticamente del marocchino ma anche perché la situazione con Zanio all'ormai è insanabile se non fosse successo nulla se Zanio non avessi detto niente fosse stato regolarmente convocato io avrei detto sì, va bene le voci però puntiamo su di lui almeno fino a giugno io lo voglio perché sono convinto che si può riscattare però se tu a gennaio mi vieni a dire non vi convocare perché me ne voglio andare scusate se sono ripetitivo ma bisogna dirlo dopo ti cerchi diciamo la rottura del rapporto con una tifoseria che tre anni fa ma in generale in tutta la tua esperienza con la Roma post infortuni post comportamenti sul campo non eccellsi post quelle, post quell'altro ti è sempre stata vicino e questo comportamento molti di noi secondo me non ce lo meritavamo poi arriveranno chiarimenti sicuramente parlerà prima o poi anche lui però ora come ora capisco la delusione di tutti di aver rotto diciamo il rapporto con un giocatore che sebbene si trattasse solamente di uno che vestiva la maia della Roma e non una bandiera non un monumento comunque ci aveva fatto affezionare tutti questo mi sembra una cosa abbastanza normale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate ditemi se secondo voi questo affare verrà concretizzato iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mi raccomando attivate la campanella se ancora non l'avete fatto per ricevere le notifiche di ogni mio prossimo video e se vi va lasciate un mi piace che a me serve sempre per capire che apprezzate i miei contenuti un saluto a tutti sempre Forza Roma ci vediamo più tardi per due short oggi caricherò due short così a muzzo diciamo ma più che altro per farvi delle top molto veloci sui 10 portieri secondo me migliori di questa prima parte di stagione i 10 terzini e poi domani altri due con centrali e centrocampisti e concludiamo poi con esterni barra trequartisti e gli attaccanti per fare una cosa molto rapida e per dire la mia riguardo il nostro campionato un saluto a tutti di nuovo e alla prossima ciao ragazzi